è terminata anche oggi la giornata fa abbastanza freddo siamo intorno ai 41 gradi sotto lo zero insomma durata anche oggi ora monto il campo velocissimamente perché dopo un po inizia ad avere la stanchezza quindi subentra freddo insomma dopo non è una situazione tanto piacevole quindi inizia subito a montare il campo meglio